La tutela dei minori non accompagnati che giungono dall'Ucraina sul territorio piemontese è stata al centro delle procedure verificate con le autorità nazionali competenti dall'assessore ai bambini della Regione Piemonte Chiara Caucino. Il percorso infatti prevede che i bambini non accompagnati vengano presi in carico dal sistema pubblico con il coordinamento del Tribunale dei Minori per la nomina di un loro tutore legale e far sì che possano essere accolti rapidamente in una struttura residenziale in una casa famiglia o presso delle famiglie affidatarie e dovrà anche essere posta particolare attenzione nel non separarli soprattutto se arrivano in gruppo o se appartengono allo stesso nucleo familiare. Ed è anche online una sezione nella pagina del sito della Regione Piemonte interamente in Ucraino con le informazioni importanti generali e le informazioni di profilassi sanitaria da sapere per i rifugiati ospitati sul territorio. E lo ricordiamo che è anche attiva la sezione del portale www.ilpiemontetivaccina.it in lingua dove i cittadini ucraini non ancora vaccinati possono aderire alla vaccinazione anti-Covid. Già circa 40 sono state le adesioni in queste ore. Possono indicare i propri dati sul portale per essere contattati e per ricevere tutte le informazioni necessarie anche coloro che sono già vaccinati ma non sono in possesso della relativa documentazione oppure coloro che sono vaccinati con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia Europea per il Farmaco.